Il primo servo del Signore 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 Non ce la faccio Habemus Papam Potreste affacciarvi al balcone, salutare i fedeli? Sì I cardinali sono disponibili a chiedere il sostegno della psicoanalisi Come si chiama? Lo chiami santità Senta, immagino che io non possa chiedere qualcosa dell'infanzia No Un accinno alla mamma? No Cominciamo Uno ha chiesto al dottore se è credente? E lo è No, non lo sono Male E che lavoro fa? Faccio l'attore Si sente meglio? No, te l'ho detto! Ha risultato bene! Un miliardo di persone vi sta aspettando Un miliardo di persone vi sopra Non Un miliardo di persone vi